Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Ica de facto Allora, oggi non è un episodio proprio di lungo oppure si Sono con mio fratello che dobbiamo costruire un XRP farm Siccome è difficile, la stiamo costruendo in giro Allora, io ho cominciato un po' a scavare sotto la ghiaglia Ho trovato un'altra access con belle cose Adesso la lascio qua e poi la prendiamo In pratica la stiamo costruendo, questa XRP farm Per chi non la sa fare, manco noi la sappiamo fare Però proveremo a farla in cima a voi Bella Allora, facciamo questo Allora, YouTube è più l'altro O no? No, no, ok Qui chiude ancora se vuole essere Ho sistemato un po' la stanza raga Ok, poi Ok, poi Sì Che li porta a questo congolo Sì Sì, vabbè, qua barbara Un'altra stanza raga barbara Non ci vedo la minchia 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 Allora Via questo Via questo Via questo Ho preso la legna Facciamo le scale, ma che cazzo, ok, credo che bassino, non c'è buc'è scala, la dobbiamo spostarla, la mettiamo qua, uno e due. Questo andiamo, mettiamo prima le scale, uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque, tre, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, giusto e giusto. Prendiamo qua, andiamo uno sotto perché, poi metteremo l'acqua, poi metteremo la lastra, qui facciamo la stanza, facciamo una bella stanza qui. Ok, mettiamo un pangolo da lavoro, una scelta per tutti i drop. Che più? E ci servirebbe una lastra. Ok, poi per prenderli più a più, basta fare questo. Ok, e poi per prenderli più a più, basta fare questo. Ok, ragazzi, qui mettiamo qui una porta, per prenderli più a più, troppo. e ora l'abbiamo solo a testare, 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 testare. Andiamo qui. Qui faremo una bella stanza edificata. Qui, qui, ok. Qui, vediamo qui, vediamo qui, vediamo qui, vediamo qui, vediamo qui. Togliamo tutte le porte. Una partuta, attra, attra. Un giaccato lì, sento quando si spawnano altri, se ne va, ma qui devo vedere qui, la luce passa, ok, dobbiamo vedere se funziona, si ragazzi funziona, vediamo, bellissima ragazzi, ci siamo costruiti, quindi con questo episodio possiamo concludere, anche se non è stato un lungo costo, scusate, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.